Il ponte e il parco della Scrivia Prima del 1866 il torrente Scrivia veniva attraversato a Guado o su un ponte di legno situato 200 metri a valle di quello attuale. Ponte che veniva spesso spazzato via dalle piene e sostituito quindi dai barcè dei traghettatori. Il ponte in mattoni venne inaugurato nel 1866 e originariamente prevedeva nove arcate poi diventate 13 per una lunghezza complessiva di 238 metri. La costruzione fu fonte di duri contrasti in paese che portarono a un'insurrezione popolare il 4 novembre 1873 quando venne saccheggiata la casa della famiglia Costa il cui capofamiglia Paolino in qualità di sindaco aveva voluto l'opera avente il costo di 230.000 lire che appesantirono le tasse pagate dai castelnovesi. Opera poderosa che ha retto a piene che l'hanno scavalcata e ai bombardamenti della seconda guerra mondiale. Due lapidi collocate sulle spallette a monte all'inizio e alla fine ricordano le date il progettista Nicolò Bruno, il fautore Paolino Costa, l'appaltatore Giuseppe Agusti e il principe Vittorio Centurione. Nel 1998 la provincia ha fatto eseguire un opportuno consolidamento. La bella illuminazione venne posta dal comune nel 1998 ed è sottoposta a manutenzione. Il tratto ripariale castelnovese, dopo un intenso e non facile lavoro da parte del gruppo ambiente di Castelnuovo a partire dal 1982, è stato restituito alla comunità e alla natura, tanto che oggi il tratto autostrada Milano-Genova e Ponte è diventato riserva naturale inserita nel Parco del Po e l'intero tratto della bassa valle Scrivia, dalla fine del 2015, è diventato uno dei duemila siti di interesse comunitario indicati dalla comunità europea sul territorio italiano. Il percorso sud-nord della Scrivia viene percorso da miriadi di uccelli migratori e le rive ancora argillose favoriscono la presenza di uccelli che si scavano il nido sulle piarde, come il gruccione, il martin pescatore e il topino riparia.